Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale Allora, oggi volevo farvi vedere in compagnia di una persona un video davvero molto speciale che mi ha trafitto il cuore dalla mia poveranza in questo momento in compagnia di questo grandissimo evento ho voluto portarvi una persona davvero molto speciale Oh, grazie, grazie Elisabetta grazie mille sei stata molto ventunile Ciao ragazzi oggi voglio farvi vedere un video veramente proprio i poveri, i poveri proprio che ve lo dico a fare che ve lo dico a fare qua per dei peli auguri di Pasqua e Pasquetta volevo farvi vedere questo video iniziamo subito con poveranza no no, rigira, rigira vediamo di che marca è l'uovo che le ha dato e che marca è? madonna mia che brutta marca ma vabbè capirai cioè fino a qua non si vede niente ehi e questo è il pezzo lo butta il pezzo del cioccolato manco se lo mangia e madonna mia ci sono i poveri che non possono mangiare i madonna sa ma questo ha venito una denuncia le chiavi e che a Pasqua le chiavi si danno ma vabbè le chiavi della marca il minimo l'hanno rubata qualcuno è finta no è finta è impossibile è impossibile secondo me è fatto di cartone oppure di ceramica la mia nuova macchina cioè ti rendi conto che questa ha avuto la macchina e io sono avuto l'uovo della Kindle e pure sai no vabbè no 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 thank you so much ma questo chi è il filo di Berlusconi fa mi capi chi è questa donna guardano così tanto di cash car cash quello è io ma guardo un poco hey veloce prendi il numero di targa prendi il numero di targa bloccala blocca ma mi non mi è affittata è impossibile ha perspetta la macchina e Natalie che cosa gli dà quella a casa la casa gli dà it's my new baby bene ragazzi Sandy guarda io non mi esprimo non mi esprimo proprio su questa cosa ma che veramente il video è terminato comunque spero parla no mi so offesa ma che verrà a me oh ma che parla parla che ora mi nervosisco parla vedi già il porretto mi sta venendo bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se così mi sentite un bel pollice ma stiamo scherzando questa pasqua io sono avuto l'uovo della Kindle no non mi springo iscrivetevi al canale perchè esce ogni video ogni settimana è anche più di uno solo per voi vabbè dai ragazzi noi ci vediamo al prossimo stai trittato che non stai nemmeno a parlare ciao ragazzi e niente non vi fate illudere da questi video che secondo me io perdo pure i capelli vedi quella la Lamborghini e io perdo pure i capelli qua manca una ricostruzione capillare mi fanno a parte questo noi ci vediamo in un prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto se così mette i dati i bollicini mi raccomando a me scrivete sotto Pasquina 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 pure a me pure a me però non dimenticatevi che io non sono Pasquina quando mi vedete in giro non ho sta parrucca perchè io giustamente solo quando sto qua che solo voi mi vedete un rapporto più intimo Però in realtà io sono questa Ma sei uguale a me?